Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera la manovra finanziaria 2023-2025 da oltre 10 miliardi di euro solo per l'annualità in corso. La manovra prevede la realizzazione di 5 nuove opere a Cagliari, tra le quali c'è il nuovo stadio, che dovrà essere realizzato secondo gli standard previsti dalle competizioni internazionali, entro i termini utili per ospitare i campionati europei 2032. Per la prima volta la Sardegna potrà conoscere lo stato delle scuole. Grazie al provvedimento sullo studio sulle caratteristiche strutturali degli edifici, i comuni potranno contare su 8 milioni di euro. È previsto l'incremento del fondo sanitario per 51 milioni. Tra le altre misure più importanti, i 3 milioni di euro per l'anno in corso, destinati all'attivazione di procedure assunzionali per l'attivazione delle unità di continuità assistenziale. Sono previsti incentivi per lo smaltimento delle liste d'attesa, 3 milioni di euro per il solo 2023. La manovra ha anche autorizzato la spesa di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l'attivazione di corsi di formazione per os a titolo gratuito. Sono state confermate le risorse per il fondo unico. Si tratta di 553 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di cui 484,7 milioni a favore dei comuni. Stanziati 149 milioni nel triennio per il pacchetto mitigazione rischio idrogeologico, 10 milioni di euro per l'efficientamento degli invasi. Sono state incrementate le risorse per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e altre opere minori, 3 milioni e mezzo nel triennio. Incrementata anche la dotazione finanziaria per la viabilità provinciale e comunale, 8 milioni nel triennio. All'Agenzia per l'edilizia residenziale pubblica area vanno 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per evitare l'aumento dei canoni di locazione a carico degli assegnatari. Sono stati stanziati 70 milioni di euro per il pacchetto efficientamento energetico che prevede la concessione di contributi in conto capitale per le imprese e le famiglie al fine di favorire l'efficientamento energetico e la conseguente riduzione dei costi per l'energia. 20 milioni di euro per il pacchetto occupazione. Ancora la legge di stabilità stanzia 23 milioni di euro l'anno per compensare le perdite sulla programmazione comunitaria in agricoltura. Sono stati infine inseriti altri 15 milioni di euro nel 2023 per la concessione di contributi a fondo perduto per i programmi di investimento delle imprese artigiane.